Appartengono alla Dutch Society of Bibliophil, la società olandese dei bibliofili. Ogni anno compiono un viaggio in Europa per visitare biblioteche specializzate in cui si conservano libri di grande interesse storico e bibliografico, edizioni introvabili sul mercato del collezionismo, preziose anche e soprattutto per gli studiosi delle più diverse discipline scientifiche e umanistiche. Giovedì 5 settembre hanno visitato la Biblioteca Storica Giuseppe Grosso, che ha sede a Palazzo Cisterna, nell'ambito di un tour fra le più importanti biblioteche di Torino, città nota a livello internazionale, proprio per il fatto che vi sono conservate collezioni librarie molto interessanti e molto diverse fra di loro. I bibliofili riuniti nella società fondata nel 1990 a Laia, hanno visitato in quasi 30 anni di viaggi le prestigiose biblioteche delle regge di Versailles e Fontainebleau, ma anche le collezioni conservate a Dublino, Lipsia, Oxford, Parigi, Bologna e in tante altre capitali culturali del vecchio continente. Ogni anno facciamo un viaggio in Europa per visitare biblioteche particolari che hanno libri di nostro interesse. Quest'anno abbiamo scelto Torino, perché la città ha molte biblioteche di tipo diverso. Una di queste è la Biblioteca Grosso, che ci interessa proprio per il suo carattere di biblioteca specializzata sul Piemonte. Abbiamo visto molti libri interessanti. Uno di questi è un libro sulle battaglie del principe Eugenio, che per caso è stato stampato in Olanda, e che contiene delle belle e grandi illustrazioni che si vedono raramente in questo tipo di libri. Un altro è un libro inglese, Viaggio al Moncenisio, anche questo con belle illustrazioni a colori. Abbiamo anche apprezzato gli incunaboli, in particolare il più antico, il primo libro stampato in Piemonte.